Ciao a tutti ragazzi Grazie e benvenuti in questo nuovo video dove come avete letto dal titolo come ogni giovedì aggiornamento settimanale quindi come vedete questa settimana abbiamo come auto del podio la Revolter è una settimana diciamo abbastanza schifosa perché non c'è nulla di eccezionale da fare ci sono giusto i soldi doppi sul bunker e sono anche scontati comunque adesso andremo a vedere tutti quanti gli sconti come al solito prima di cominciare con il video vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche tanto guardate i video a sto punto iscrivetevi che siamo quasi vicino ai 200.000 iscritti quindi manca pochissimo mi raccomando iscrivetevi lasciate mi piace e condividete con i vostri amici che giocano ancora GTA partendo subito con gli sconti abbiamo la Enus Paragon R scontata a 543.000 dollari ovvero del 40% e in seguito su Warstock abbiamo l'Alftrack, l'APC e l'Ardent insomma sono finite le auto in sconto solamente queste 4 diciamo abbastanza penoso vi ripeto per questo motivo vi dicevo che la settimana non è ottima potete anche giocare a altro questa settimana dopodiché sul sito dei business abbiamo come vi dicevo all'inizio del video tutti quanti bunker in sconto con le relative modifiche quindi se li andrete a comprare vi farà pagare di meno la struttura di base e in più anche le modifiche saranno scontate quindi come vedete potete modificarlo al massimo se ovviamente ancora non avete il bunker quindi affrettatevi a comprarlo se ancora non ce l'avete in seguito ragazzi ci sono anche in sconto le armi laser che sarebbero le armi quelle là aliene le trovate da Munation vi basterà andare lì e saranno scontate anche se del 40% quindi veramente poca fantasia sono finiti gli sconti questo era tutto di questa settimana adesso passiamo ai soldi doppi quindi come vedete ci sono i soldi doppi sulle vendite del bunker come vedete il mio bunker ha un totale di 1.400.000 che non è male vi consiglio di guardare qualche tutorial che ho fatto sul canale su come riempire velocemente le scorte anche se non conviene conviene fare comunque caio perico quindi insomma diciamo che è una settimana abbastanza inutile però se avete merch da vendere è la settimana adatta perché appunto hanno i soldi doppi quindi entrate su GTA solamente per vendere in seguito abbiamo guerriglia motorizzata con i soldi tripli come vedete soldi ed rp tripli ottima opportunità di guadagno e di fare rp e in seguito abbiamo anche base missilistica con i soldi doppi e questi qui ragazzi sono i soldi doppi e tripli sono finiti qui adesso per quanto riguarda le prove a tempo come vedete dal video sono le seguenti questa qui è la prova a tempo che vedrete domani sul canale che appunto si fa con la moto normalmente era già uscita qualche mese fa quindi è abbastanza facile e in seguito abbiamo la prova a tempo RC Bandito che è questa qui su Vespucci che è anche abbastanza facile e vedrete domani sul canale invece gli sconti Prime Gaming sono i seguenti quindi ragazzi spero che questo video vi sia stato utile se siete nuovi iscriviti al canale e attivate le notifiche per i migliori glitch e contenuti su GTA Online e noi ci vediamo al prossimo video e noi ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti